Virginia Raggi, 37 anni, romana di San Giovanni, sposata con un figlio, laureata in giurisprudenza nel 2011, inizia a fare politica col Movimento 5 Stelle. Eletta consigliere comunale nel 2013, si occupa soprattutto di scuola e di ambiente, vincitrice delle comunarie online con 1764 voti e la candidata sindaco a Roma per i 5 Stelle. Il sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera la colloca in testa la gradatoria delle intenzioni di voto con il 27,5% delle preferenze. Allora, Avvocato Raggi, adesso è ufficiale, la Roma è favorita, che effetto le fa? Beh, un bel effetto direi. Ma lei ci crede ai sondaggi? No, in realtà non molto, però credo alle risposte dei cittadini, i cittadini insomma sono con noi, alla fine abbiamo lavorato per tre anni per raggiungere questo risultato, quindi contenti. Ha un po' paura di questa esplosione di notorietà o no? Ma no, alla fine ci si farà l'abitudine, insomma. Che cosa la gratifica di più? Sapere che molti cittadini sono con noi e ci apprezzano. E che cos'è più difficile da gestire? È difficile da gestire... Di questa notorietà, voglio dire. Ma all'inizio è stato un po' complicato il rapporto con i fotografi che mi inseguivano, adesso sono diventati più discreti, secondo me non li vedo più. Non li vede più, quindi sono più pericolosi. Senta, come avversario chi teme di più? Un po' l'astensionismo, mi fa paura le previsioni del 50, 40, 50% di astensionismo. Senta, ma è possibile che alla fine al ballottaggio se ci sarà ci siano due donne, lei e la Meloni? Sarebbe una rivoluzione. Ah, forse sì. Senta, da donna, pensa che la Meloni abbia fatto la scelta giusta? Ha fatto la scelta che voleva. Che voleva? Voglio dire, ma cioè, nelle stesse condizioni lei si sarebbe candidata? Io ho lavorato fino alla settimana prima della nascita di mio figlio, quindi... Quindi si sarebbe candidata? Forse sì, non lo so. Non lo sa, non ci ha pensato, ci avrà fatto una riflessione questi giorni? In realtà no, diciamo non è un tema che mi appassiona, continuiamo a lavorare... Vabbè, d'accordo, però uno riflette, no? Sì, vabbè, non si può fare, diciamo la storia, non si può riflettere con i seccoli, ma se quando dovessi essere di nuovo incinta e mi si dovesse presentare un'occasione del genere ci penserò. Vabbè, ne parleremo. Senta, lei è stata candidata con 3843 voti online, sono una garanzia di democrazia sufficiente secondo lei? Ma sono una garanzia della qualità del voto, sono tutte persone incensurate, sono tutte persone che hanno seguito la nostra attività in questi tre anni e che si sono registrate al blog di Grillo. Ma questo vale anche se la piattaforma è gestita in esclusiva da Casaleggio, no? Non è proprio così, perché durante le votazioni c'è una società terza che certifica il voto. Ah, che controlla. Senta, il candidato del PD, Giacchetti, è stato scelto da più o meno 28 mila votanti, è una differenza che vale oppure no? Sono forme diverse? Sono forme diverse, sappiamo che ci sono molte schede bianche, ci sono stati brogli in altre città, francamente io ritengo un po' difficile pensare che la mattina ci si svegli per andare a votare scheda bianca, quindi ogni informazione politica fa quello che può. A Torino, invece, la candidata a Pendino è stata scelta senza neanche un sondaggio online, ogni città ha la sua regola? Sì, ogni città si autodetermina. Lei dice che i giornalisti stranieri vogliono parlare di programmi, quelli italiani vogliono parlare di gossip, noi parleremo di entrambi. Va bene. Intanto il suo mantra è trasparenza, trasporti, rifiuti e io aggiungerei topi, perché lei sa che è un'emergenza assoluta. Ha un'idea per come affrontare il problema dei topi? Guardi, l'idea ce l'abbiamo avuta già da tre anni, bisogna fare interventi periodici di derattizzazione, pulire, continuare a pulire in maniera costante, eliminare i rifiuti, sfalciare i prati, quindi tenere la città pulita. I topi piano piano non tornano. Trasparenza, cioè per lei, vuol dire soprattutto online i conti del comune, è così, no? Online i conti, online gli appalti, consentire un controllo diffuso da parte dei cittadini e su questo abbiamo avuto riscontro anche da parte del dottor Cantone, e anche secondo lui questo è un ottimo modo. Un'ottima strada. Una volta online i conti e i debiti del comune, gli appalti, si risolve tutto? No, non si risolve tutto. Una parte è la trasparenza, quindi consentire ai cittadini di controllare e sapere, far sapere all'amministrazione, quindi anche noi un domani quando entreremo, far sapere che abbiamo il fiato sul collo dei cittadini. E poi bisogna comunque applicare le norme, perché ad oggi quello che ci è stato fatto vedere è che le norme erano costantemente disapplicate. Ecco, dottoressa, però avvocato, l'ipotesi di fallimento del comune la mette tra le possibilità reali per risolvere i problemi del debito oppure no? No, francamente no. In certi paesi, in America per esempio, è capitato, insomma, si è ripartiti dal fallimento. No, penso che il fallimento metterebbe la città in una situazione drammatica. Ecco, ma quanta macelleria sociale pensa di dover fare in un comune che ha un soprannumero di addetti così e un record di assenteismo? No, io penso che più che fare macelleria sociale si debba innanzitutto andare a incidere sugli sprechi, cosa che sino ad oggi non è stata fatta. e poi bisogna riorganizzare il personale. Ma non ce n'è troppo? Guardi, abbiamo tanti dipendenti che sono mal organizzati. Ma secondo me no. Non è troppo. Guardi, prima di tutto bisogna riorganizzarlo. Se all'esito di questa organizzazione, non se, all'esito di questa organizzazione, capiremo se è troppo o troppo poco. Ad oggi non è mai stato organizzato. Beh, si continua solamente a dire che bisogna prendere, bisogna assumere persone. Prima organizzare e poi capire. Vabbè, insomma, Grillo spesso ha detto che il debito pubblico italiano andrebbe cancellato. Ecco, vale anche per Roma. Cancelliamo il debito per risolvere il problema. Io direi che il debito di Roma andrebbe innanzitutto fatto ripagare a chi l'ha creato. Perché 16... Cioè a chi? Beh, i partiti che sostanzialmente hanno gestito la città come fosse cosa... E lei pensa che i partiti possono ripagare il debito di Roma? Guardi, inizia... Beh, che è un miliardo. Parliamo di 16 miliardi. 16, ecco sì. Beh, politici e amministratori. Non so se questo sarà mai possibile perché in Italia chi sbaglia in questo senso non paga mai. Però inizierei a essere contenta se per esempio il PD pagasse l'affitto della propria sede. 170 mila euro a Via dei Giubonari. Ma cominciamo da lì per i 17 miliardi. E cominciamo da lì. E cominciamo da lì. E ci vuole un po' per altre cose. Eh, ci vuole un po', ma noi pazienza ne abbiamo. Ne abbiamo tanta. Va bene. Senza trasparenza è anche scrivere sul curriculum. Se ne è parlato molto di aver lavorato uno studio predile. Ma perché non l'ha fatto? Perché generalmente non si fa. Beh, uno racconta quello che ha fatto, dice tutto più o meno, no? Non c'è da vergognarsi. Non mi vergogno, tant'è vero che a domanda ho sempre risposto. Ma allora avrei dovuto scrivere anche i ristoranti presso i quali ho lavorato. Ma non è la stessa cosa. E magari se un ristorante poi fosse... Nei ristoranti cosa ha fatto di bello? Facevo la cameriera. Ah, dove? A Roma? Sì, sì, sì. A San Giovanni? Dalle parti di Porta Pia, San Giovanni Porta Pia. Senta. È pentita di aver detto che cambierà i vertici dell'ACEA oppure ha fatto bene? E perché dovrei essere pentita? Lo chiedo a lei, io non lo so. No, assolutamente. Anzi, io credo che un sindaco dovrebbe dire che cosa intende fare non solo della città, ma anche delle municipalizzate e in questo caso di ACEA, che è una quotata. visto che sono società comunque del comune, ACEA per il 55% è ancora del comune. Mentre abbiamo visto che il PD è partito, lancia in resta a difesa del socio privato. Beh, no, non va bene, insomma. No, io non ho detto che va bene. Il comune deve fare il comune. Senta, li cambia con chi? Con chi li cambia i vertici? Vedremo. Innanzitutto andiamo a capire esattamente che cosa hanno fatto in questi anni, come sono stati fatti gli investimenti sull'ACEA. Se dice che li cambia vuol dire che ha già fatto questa valutazione. Sì, stiamo iniziando a fare questa valutazione. Ma si ha detto che li cambia, vuol dire che lo sa, no? Eh, va bene, non è che posso svelare tutto adesso. Sicuramente ci sono delle operazioni da fare, ci sono delle attività da fare. Ha dei nomi in testa già? Ma forse. Forse? Vedremo, vedremo. Ma no, ma assolutamente. Ripeto, ACEA deve continuare, deve fare quello per cui è nata. Deve lavorare sull'acqua, fare investimenti sulle reti. C'è chi pensa, come Beltroni ho letto, ex sindaco di Roma, che senza il messaggero a Roma si perde. Lei vince contro il messaggero invece, mi pare di capire. Vedremo, questo lo diranno i cittadini. Eh, vabbè, ma le fa paura il messaggero contro a favore? Sì o no? Ma guardi, da quando siamo nati abbiamo la stampa contro, eh. Ma non tutta, non sempre. No, non tutta, non sempre. Soprattutto in questi ultimi tempi. La vittima non serve. No, 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 però ci siamo corazzati. Eh, senta, lei ha anche detto, mi aspetto una valanga di attacchi come quello della ACEA. Qual è il prossimo che si aspetta? Ah, questo non lo so. Il problema è che quando iniziamo a pestare qualche privilegio, qualcuno si sveglia. E chi vuole pestare il prossimo privilegio che pesta? Qual è? Vedremo, vedremo. Ah, ma non mi dice niente, sembra una democristiana, non una 5 stelle. È vero, beh, innanzitutto noi continuiamo a dire che bisogna attaccare gli sprechi, che bisogna sistemare le partecipate, insomma, di nomi lì ce ne sono, chi vuole. Senta, e quindi sta pensando di cambiarle tutte come la ACEA, visto che vanno tutte male. Ma innanzitutto è la stessa legge e lo stesso governo che ci ha detto che dobbiamo razionalizzare con il Salva Roma, ci hanno dato una linea ben precisa da seguire, considerate che noi a Roma abbiamo una moltitudine di circa 80 società partecipate, tra partecipate di primo livello, secondo e terzo livello. E questo significa anche moltiplicazione di poltrone, moltiplicazione di management, quindi bisogna anche capire esattamente cosa fanno, come stanno procedendo e poi riaccorpare, riorganizzare. Senta, Avvocato Raggi, ma per cambiare nella ACEA come nell'ATAC, il sindacato, lei lo vede come un alleato o come un ostacolo? Ma quando il sindacato fa il sindacato, quindi tutela i diritti dei lavoratori, secondo me è un ottimo interlocutore. E per lei? Quando iniziano a fare politica e non a difendere i lavoratori diventano problematici, perché si pongono in maniera... Adesso abbiamo iniziato a calendarizzare incontri, la prossima settimana li incontriamo in maniera istituzionale. Insomma questo faccia a faccia lo sto facendo troppo presto. No, no, assolutamente. Troppe poche risposte ancora. No, abbiamo potuto parlare in questi anni con i sindacati e in alcuni casi abbiamo anche portato avanti delle battaglie insieme, tuttavia non vi è dubbio, ed è sotto gli occhi di tutti che spesso i sindacati hanno un po' travalicato il loro ruolo. Allora noi chiediamo che tornino a fare gli interlocutori rappresentativi dei lavoratori. Senta, Avvocato Raggi, per rendere efficienti le municipalizzate, la privatizzazione è un'opzione che prende in considerazione oppure no? Ma io credo che questa opzione è quella che viene cavalcata spesso dai soliti partiti. No, chiedo, lei. No, secondo me no, perché vede, quando le municipalizzate... Lei è più per la razionalizzazione e per mantenerle pubbliche. Sì, sì, perché quando le municipalizzate svolgono servizi pubblici devono essere rese efficienti in modo tale che il pubblico possa svolgere in maniera efficiente quel ruolo. Vedrà che un po' di macelleria sociale la dovrà fare per realizzare questo. Ma mi auguro di no. Speriamo, io me lo auguro per chi eventualmente dovesse perdere il posto. Nel vostro programma... Però non seminiamo panico perché così non è corretto. No, non è panico, sono domande reali. Ma io non credo, io non credo questo. Io credo anzi che ci siano molti dipendenti che abbiano voglia di ricominciare a lavorare in maniera corretta e in maniera anche efficiente. Parlavo del numero io infatti, non della qualità. Perché sono loro i primi destinatari poi di politiche sbagliate e di un'amministrazione che non funziona. Nel vostro programma si parla poco degli interventi a favore delle famiglie. È una scelta? Ma in realtà gli interventi a favore delle famiglie detti così possono sembrare uno slogan. Noi andiamo e puntiamo sui servizi che poi coinvolgono tutti e anche le famiglie. Parliamo per esempio degli asili nido. Parliamo delle politiche sociali, ossia tutto quel settore di interventi che l'amministrazione deve svolgere in favore delle persone più fragili. Per esempio gli anziani, disabili. Pensi che ad esempio, secondo il governo, quando una persona autistica ai 18 anni non ha più diritto all'assistenza, come se a 18 anni si guarisse. Allora le politiche sociali debbono tornare a fare le politiche sociali e automaticamente le famiglie vengono aiutate. Senta, parliamo di trasporti. L'ATAC con 11.000 dipendenti dà il servizio, così si dice, peggiore d'Europa. Un miliardo e mezzo, un miliardo e otto di debito, mi correga se sbaglio. Un miliardo e mezzo, sì, corretto. Ecco, ma va, stavolta ci ho preso. Però è vero anche che quel miliardo e mezzo va messo in correlazione con i 700 milioni di credito. Allora, innanzitutto bisogna efficientare. Preciso. Tagliare gli sprechi, che significa ridurre gli appalti. Andare a incidere sulla leva dei ricavi. Noi abbiamo un'evasione stimata di 100-120 milioni. Cioè, far pagare i biglietti, insomma. Sì, che non mi sembra una cosa normale, non mi sembra una cosa marziana. Quindi andare a recuperare risorse, tagliare i costi e poi incrementare il servizio. Ossia, dobbiamo far girare, dobbiamo prendere autobus, dobbiamo far girare più autobus. E questi sono investimenti. E questi sono investimenti che con una seria politica di taglio agli sprechi e di recupero dell'evasione... Lei pensa di recuperare di lì i soldi per gli investimenti. Sì, assolutamente. Ecco, restiamo i trasporti. Lei pensa, così ha detto, se ho capito bene, di rivoluzionare anche quello dei, mi sembra, 160-180 mila scarichi e scarichi di merci quotidiane a Roma per rifornimento dei negozi. Ecco, come? Beh, innanzitutto noi abbiamo visto dei modelli che già sono applicati in altre città e funzionano. Ossia, creare dei mini hub, delle piccole piattaforme di carico-scarico, al di fuori del centro storico, all'interno delle quali avvengono queste operazioni. Vengono caricati camion, anche piccoli, furgoncini, si può pensare anche elettrici, che poi distribuiscono al centro e quindi viaggiano pieni, ne viaggiano meno e poi soprattutto bisogna... Come meno, se sono più piccoli di quelli che fornisco, saranno tanti. Saranno tanti, ma non è detto di più, perché oggi spesso viaggiano camion completamente vuoti. Esatto, e magari rivoluzionare anche gli orari. Gli orari di cosa? Del carico-scarico-merci, cioè magari prevedere delle fasce ben precise, in modo che non paralizzino la città, negli orari di, non so, entrata nelle scuole, entrata negli uffici. Senta, ma è importante essere romani per essere sindaco di Roma, secondo lei? Secondo me sì. Perché? Perché Roma è qualcosa che respiri, che vivi tutti i giorni. Se vieni da fuori hai una visione parziale della città, non la vivi. Lei è arrivata qui sul pelo dell'orario della diretta, ma zona in ritardo. È sempre in ritardo oppure sono i trasporti romani che l'hanno fatta arrivare in ritardo? Devo dire che oggi ho tentato di prendere treno e auto e metro, non sono riuscita a coordinare. Ma normalmente è puntuale? Ma sì, tendenzialmente sì. Lei come gira per Roma, normalmente? Allora, generalmente mi avvicino in centro con la macchina. Oggi ho preso il treno, non sono riuscita a prenderlo bene perché era troppo pieno. Mi avvicino in centro con la macchina e poi quando sono in centro vado a piedi, quando posso, e metro, autobus. Senta, qual è la cosa che la fa più arrabbiare quando gira per Roma a piedi? Quando giro per Roma a piedi è la maleducazione delle auto che parcheggiano ovunque, anche sugli scivoli per i disabili, sui marciapiedi e poi tutto il degrado, lo sporco. Senta, i 5 Stelle sono da sempre sensibili all'emergenza abitativa, invece avete sempre fatto delle battaglie in questo senso. Da sindaco, qual è la prima cosa che farà per questo problema? Ma innanzitutto cerchiamo di rimettere in funzione lo scorrimento delle liste d'attesa, delle graduatorie. Sono ferme da anni, noi abbiamo ancora i nuclei 1 e 2 e 3, quindi quelli composti da una persona, due o tre persone, che provengono dal bando del 2000. Sono da aggiornare. Sono da aggiornare, bisogna liberare un po' di immobili, bisogna riprendere, risistemare un po' di immobili e far entrare le persone. Ma per fare tutto questo occorre un censimento. Lo stesso Tronca, quando è arrivato a Roma, si è reso conto che il censimento... Tronca facendo il censimento ha scoperchiato questo scandalo degli affettopoli, quindi vi sta dando una mano, diciamo. Diciamo che lo scandalo l'avevamo visto già da tempo, però sicuramente lui ha inciso molto sul primo municipio. Cioè sta facendo bene Tronca, secondo lei? Ma sul primo municipio mi sembra che abbiano iniziato a trovare qualcosa. Sicuramente questa attività deve continuare e deve andare su tutti i 15 municipi. Insomma, che voto dà Tronca finora? Beh, guardi, Tronca ha fatto anche alcune cose di facciata e per adesso si sta anche intestando alcune attività che a mio avviso sono molto pericolose e riguardano scelte politiche, non scelte di ordinaria amministrazione. Adesso ci sarà da rinominare le posizioni organizzative, che sono dei super funzionari del Comune di Roma. Il loro contratto, la loro mansione è molto importante, i loro contratti sono scaduti già dal 2013, quindi abbiamo due anni di proroghe. Visto che le nomine vengono fatte dai dirigenti e dai direttori, sono nomine di tipo politico. Quindi lei dice che non deve farle? Tronca, io mi auguro che aspetti, che continui questa proroga ancora un mese, che non cambia nulla a fronte di due anni di ritardo e lasci decidere alla futura amministrazione. Non deve fare queste nomine, Tronca non deve fare le nomine. Lei crede veramente che Roma sia la città più corrotta d'Italia? Guardi, la più corrotta non lo so, sicuramente è molto corrotta. Sono molto vicino. Ecco, ma dopo l'intervento di Pignatone con Mafia Capitale, ha la sensazione che qualcosa sia cambiato oppure no? Quanto meno la consapevolezza da parte dei cittadini e da parte di molti dipendenti, io credo di sì. Ma c'è un sindaco nella storia di Roma che le piace, che lei considera in qualche modo un riferimento? Ma guardi, non lo so. Non siamo all'innovazione totale? Io vorrei provare a fare qualcosa di diverso. Non so, Nathan, che ne so. Ma sì, sicuramente molti sindaci del passato, però la città è diversa, le condizioni sono diverse. Io ritengo che oggi la città abbia bisogno di qualcosa di completamente diverso che passa per la partecipazione dei cittadini. Senta, i Cinque Stelle chiedono ancora le dimissioni del ministro Boschi? Anche quelle di Renzi, direi. Sì, tutte e due. Beh, è notizia recente appunto se è intestato tutto questo emendamento. E quindi se si dimette il ministro Guidi, evidentemente qualcosa c'è. E voi chiedete le dimissioni di Renzi. Senta, lei pensa che Renzi e Laboschi potessero non sapere quali erano gli interessi del compagno del ministro Guidi? Assolutamente no. E se non sapevano è alquanto sconveniente, no? Perché? Perché un primo ministro deve sapere che cosa sta portando in aula. Addirittura se si intesta la battaglia vuol dire che qualcosa la sapeva. E quindi sì alle dimissioni? Per forza. Adesso una mozione? Sì, distrugio. Senta, che voto quindi, che voto dà il governo Renzi? Zero? Assolutamente. Tanti slogan, tanti annunci. Non c'è proprio niente che le piace di Renzi? Beh, che sta per andare via. Ah, questo. Senti, questo lo dice lei. Insomma, molti pensano che senza dirlo però, senza dirlo, quasi tutti puntino sulla sua vittoria. Anche i suoi avversari, per incastrare i cinque stelle nella gestione di un disastro come quello di Roma. Che hanno creato loro e adesso se ne vogliono lavare le mani. Noi in realtà siamo molto protesi. Pronti al sacrificio? No, al sacrificio. Noi vogliamo vincere e vogliamo ricostruire questa città. Senta, ma per fare... Per noi è un onore, non è un sacrificio. Per fare il sindaco di Roma, qual è la qualità principale che bisogna avere, secondo lei, oggi che la città è tutta diversa? Coraggio. Coraggio nelle scelte e coraggio di dire le cose come stanno. Parlare ai cittadini e dire anche, signori, la città è in queste condizioni. Sappiate che non abbiamo la bacchetta magica, ci vorrà del tempo, ma insieme riusciremo a ricostruirla. Lei sa che dopo tre mesi tutti pensano che la colpa è sua, se non le cose non vanno bene. Lei ce l'ha questo coraggio? Io penso di sì, anche perché ho le spalle. coperte, siamo una squadra. Ma quando ha scoperto di avere questo coraggio particolare? Perché questa è una cosa personale. Non lo so, diciamo che ho scoperto di avere questa determinazione strada facendo e... Vivendo. Vivendo, sì. Lavorando? Lavorando tutti i giorni nell'amministrazione e capendo che così non si può andare avanti. Senta, a Casaleggio, così ho letto, le ha consigliato di rimanere se stessa. Cioè se stessa cosa vuol dire? Perché dovrebbe cambiare? Di continuare a rimanere così determinata e con la forza di andare avanti. Ma che cosa non vorrebbe perdere di sé? Ma niente. Che cosa avrà paura? Qualche cosa che le fa paura? Dice, oddio, questa situazione mi mette in difficoltà qua e là? No. No, no. Perché alla fine quello che sono oggi è nel bene e nel male il frutto di tutte le mie componenti, chiamiamole così. Quindi... Ecco, Avvocato Raggi, ma qual è il suo peggior difetto? Eh, questo non lo posso mica dire io. No, lo può dire. Se non lo può dire vuol dire che si analizza poco. No, no, non lo so. Forse sono stata forse troppo timurosa in passato. Ecco, adesso piano piano sto iniziando appunto ad avere più coraggio. Più coraggio. Senta, è la qualità invece di sé a cui tiene di più? Ma questa determinazione, devo dire, mi piace. Se l'è scoperta strada facendo o anche questa? Sì, sì, sì. Senta, abbiamo detto dello studio Previty, del voto al PD. C'è qualche altra cosa che non sappiamo? Magari un gossip che potrebbe uscire da un momento all'altro e che la potrebbe mettere in imbarazzo? Ma non lo so. No? Non so. No? No, si cura, si cura? Guardi, si cura ormai, non lo so, il frigo con qualche cosa di scaduto dentro. Ah sì, questo è possibile. Un giornalista che viene a vederlo. Insomma, nessuno scheletro nell'armadio? Ma penso di no. Né privato, né pubblico? Guardi, mi mette... Adesso ci penso, poi le farò sapere. Così su due piedi direi di no. No? Vabbè, ho dato PD, questo è un altro eroe. Partiti di sinistra. Peggio questo o peggio Previti? Com'è andata? Ma guardi, in realtà alla fine Previti e su Previti abbiamo detto, sulla sinistra sono rimasta molto delusa. Ma hai riconosciuto le voci? Sì, sì, sì. Compagni, professori? Compagni, è vero, è vero, a scuola non ero molto né secchiona né ero una leader. Senta, vabbè, ma sta spiegando che lei è un diesel che viene fuori lentamente. Sì, diciamo che mio figlio è stato un po' il catalizzatore. Quanti anni ha suo figlio? Adesso sei. Che classe fa prima, seconda? L'anno prossimo, adesso finisce la materna, la scuola d'infanzia. Che cosa vorrebbe essere sicura di riuscire a insegnarli? La volontà e la capacità di essere se stesso sempre, comunque. Come si chiama? Matteo. Matteo pericolosissimo, come una mamma mia, aiuto. Senta, di sé lei ha detto, sono cattolica non praticante, cioè? Che non riesco ad andare a messa la domenica. Perché praticare vuol dire andare a messa la domenica, no? Beh, diciamo questa è una parte. Per il resto poi cerco, insomma, di portare quelli che per me sono i principi più importanti e il cattolicesimo, che è il rispetto di sé e degli altri, la compassione e la condivisione all'interno di tutte le azioni della mia vita. Le piace Papa Francesco? Sì, sì, direi che sì. Perché? Perché mi sembra molto rivoluzionario, molto attento all'ambiente, attento agli altri, è una persona estremamente rispettosa, condivido molte delle sue idee. Senta, avvocatoria, il Movimento 5 Stelle cresce e nascono anche i primi scandali, che effetto le fanno? Ma in realtà, le dico una cosa, a me sembra che il Movimento 5 Stelle sia stato molto bravo a prendere immediatamente le distanze dalle persone che in qualche modo hanno provato a macchiare questo. Lei è d'accordo con la multa di 150 mila euro per chi tradisce la linea del Movimento? La multa di 550, sì, ho un po' esagerato. Ma sì, perché la politica ci ha abituato. Quindi è d'accordo. Ma sì, perché vede, è anche brutto e secondo me è incoerente e tradisce la fiducia degli elettori. Quando ci si candida con un partito, portando avanti determinati programmi e idee, poi cambiarle in corsa. Allora è più onesto e coerente dire io non condivido più questo programma, non condivido questo movimento, me ne vado, mi dimetto e lascio che qualcun altro porti avanti queste idee. A Torino, però, la Pendino invece non la applica questa teoria. Ogni città si autodetaggia. Sì, sì, assolutamente. Vi parlate ogni tanto? Ma adesso inizieremo, credo. Forse conviene qualche piccolo scambio di opinione. Più che altro sui programmi, sulle cose, c'è molta condivisione perché comunque abbiamo una visione comune e speriamo che i cittadini apprezzino. La provino. Senta, in compenso però a Torino si prevede una specie di primarie per scegliere i candidati e i assessori. Lei, com'è in mente di fare per scegliere invece? Beh, abbiamo, intanto stiamo visionando un po' di persone. Sì, stiamo visionando, esaminando persone e curriculum e poi vedremo, magari faremo delle primarie. Per adesso non è ancora definito. Ma lei comunicherà i nomi prima delle elezioni? Ma se riusciamo sì, se riusciamo l'ho sempre detto. Rutelli, l'ex sindaco, dice che l'inesperienza è una virtù che può funzionare in campagna elettorale. Ma per governare il caos di Roma ci vuole una classe dirigente già pronta, che sappia almeno come si fa una delibera. Ha ragione o no? Beh, innanzitutto diciamo che la classe... Lei lo sa come si fa una delibera? Sì, le ho viste, ma soprattutto... Le ha viste e le sa fare o no? Le ho viste e le so fare... Non le faccio l'esame? No, no, non solo le ho viste e le so fare, però precisiamo, le delibere non le fanno, le fa il sindaco, non le scrive il sindaco, le scrive la classe dirigente, che infatti è quella che noi già troviamo nel comune di Roma e che sarà poi... Senta, ma lo stadio della Roma si farà oppure no? Stadio della Roma e Stadio della Lazio, perché no? Rispettando le norme. Certo, lo stadio volevo dire, scusi, dove? Si sa dove? Al momento mi sembra che il progetto sia a Tordivalle, no? No, non so, chiedo a lei. Però sempre rispettando le norme. Lei ha detto, se vinco io le Olimpiadi non si faranno, perché? Beh, la città ha bisogno di interventi sul quotidiano e sull'ordinario, veramente questa è una città in cui le buche sono diventate programma di governo, che sembra ridicolo a dirlo ma è così, e tutti i dati storici economici ci dimostrano che le Olimpiadi non portano benessere alla città ma portano debiti, perché oltre ai contributi del CIO o poi le città si indebitano. Io non credo che Roma abbia la capacità... Ne ha parlato con Malagò, con il Presidente della Coglia. Ma mi auguro di poterlo incontrare, insomma. Senta, ma quali sono i temi di respiro nazionale su cui si confronterà con gli eletti parlamentari per trovare una sintonia? Lo facciamo già, per esempio tutta la tematica del lavoro, tutta la tematica del reddito di cittadinanza, l'ambiente, la gestione dei rifiuti, noi già lo facciamo, ma da sempre. Ma tra Casaleggio e Grillo a chi si sente più vicina lei? Ma al Movimento 5 Stelle. No, vabbè, no, ci sarà uno dei due, forza, ha paura di dirlo. Ma no, ma li conosco poco entrambi. Sì, quante volte ne ha visto uno, quante volte l'altro? Gian Roberto una volta e Beppe Grillo due o tre volte in occasione delle manifestazioni Città Italia 5 Stelle. Gian Roberto solo il nome, Beppe Grillo nome e cognome più vicino a Gian Roberto. A tutte e due, a tutte e due. Hanno avuto una bellissima intuizione, quella di far nascere il Movimento 5 Stelle. Senta, a proposito di Grillo, aver tolto il nome dal simbolo è un bene per il Movimento secondo lei o no? Ma è stata una scelta importante perché il Movimento sta comunque iniziando a camminare. Dice di sì, pensa di sì. Ma sì. Un'ultima domanda. Ieri era felice o triste, insomma Roma o Lazio? Vabbè, il derby è un importante, è un appuntamento importante. Se tiene per la Roma o per la Lazio, forza! Se no lo dico io, guardi. Ma guardi, che cosa le devo dire? L'importante è che la partita andata... Ma in realtà, guardi, mio marito, mio marito... Si è capito da quando ha detto dello stadio. Io ho detto lo stadio della Roma si farà. Lei ha detto no, lo stadio della Roma è della Lazio. Sa che c'è, che qui a Roma come si tocca una delle due squadre si scontenta l'altro 50% dei cittadini. Allora diciamo, siccome le due squadre sono estremamente importanti e gloriose, meritano entrambe il loro stadio. Va bene, niente cuore allora sul calcio. Il cuore è sulla città, via. Sulla città, va bene, grazie. Sulla città, va bene, grazie.